G7 Energia Si è sviluppato attorno al tema della sicurezza energetica in relazione alla sostenibilità e alla crescita economico globale. I principali temi trattati hanno riguardato la sicurezza energetica in senso lato, nuove soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di tecnologie che potessero favorire il contrasto ai cambiamenti climatici, mitigare i cambiamenti climatici, la transizione energetica verso soluzioni green e un tema che è quello che ha visto impegnato anche noi che riguarda l'accesso all'energia in Africa con i relativi investimenti. E su quest'ultimo tema anche noi come Politecnico siamo stati chiamati a fianco al nostro governo e delle imprese italiane e del terzo settore nel definire una serie di proposte per accelerare la diffusione di soluzioni innovative di energia sostenibile in Africa con l'obiettivo di promuovere l'accesso all'energia in considerazione anche dal fatto che oggi quasi un miliardo e 300 milioni di persone non hanno accesso all'energia e buona parte di queste si trova in Africa, rafforzare l'approvvigionamento energetico e la sicurezza di approvvigionamento, creare opportunità di lavoro che nuove tecnologie possono consentire in alcuni contesti e consolidare la crescita economica in Africa soprattutto nelle aree rurali oltre che quelle urbane. Noi come Ateneo siamo impegnati in Africa da diversi anni con un supporto che è nei confronti sia dei nostri enti governativi ma anche delle aziende basti ricordare Eni ed Enel per fare due nomi e abbiamo una consolidata rete di relazioni con le istituzioni locali. La stampa ha riportato però che non c'è stato un accordo a livello globale. Che scenari si aprono ora? Questo è vero. È stata un po' una sorpresa nel senso che l'amministrazione americana ha deciso di non sottoscrivere le conclusioni a cui si era giunti all'interno del G7 nonostante che nei tavoli di confronto non erano emersi particolari criticità da parte dei rappresentanti del governo americano. Credo che questo sia un'azione di tipo politico, cioè un atto di tipo politico e probabilmente nei prossimi mesi riusciremo a capire quale potrà essere il reale impatto di questa scelta che è stata fatta dall'amministrazione americana. Grazie. 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 Grazie.